ciao a tutti ragazzi e benvenuto in questo nuovo video oggi vi presento un night è il secondo che presento in questo canale l'altro era quello bronzato questo è un night o quindi militare completamente in policarbonato quindi leggerissimo ma c'è la cassa in policarbonato poi il bracciale ovviamente in è in acciaio però è molto leggero diametro della cassa 51 e spessore 14 6 ghiera unidirezionale molto precisa con illuminazione altrizio quindi quello che vedete insegnavole diciamo le lancette dei minuti delle ore dei secondi più il pallino qui sopra hanno un tubicino di trizio e questi sono flat tube quindi sono tubi di trizio t100 quindi la versione più luminosa un orologio subacqueo ovviamente quarzo movimento ronda 715 l resistente all'acqua fino a 200 metri e pesa 162 grammi dicevamo che il tutto nero nero oggi sono di qualità questi night non costano moltissimo e però sono sono di qualità questo lo uso molto spesso perché comunque di notte è veramente uno spettacolo per come per quanto è luminoso faccio vedere un po da vicino un bracciale con chiusura di sicurezza veramente non si sente da quanto è leggero e a me piace perché tutto nero così poi di notte ripeto è veramente uno spettacolo ditemi cosa ne pensate se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale per i nuovi video e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti